Sei fantastica. Scusa, Fosca, c'è un piccolo problema che io credo sia il caso di parlarne. E cioè? Tu sei clitoride o vaginale? Ma che razza di domanda è? Io non lo so. Ma scusa, è come se mi chiedessi se sono di destra o di sinistra. Io non lo so, non mi interessa. Va bene, amore. Questa comunque è una cosa che poi dovremmo appurare. Tu ami preliminari? No, 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 per carità. Facciamo subito, facciamo in fretta. Sì, allora mi dai qualche secondo di concentrazione onde avere un'eccellente reazione? Grazie. Fatto. Fosca, permettimi una domanda. Tu ami love talking? Cosa intendi per love talking? Ti piace sentirti dire alcune porcate durante l'atto? Assolutamente no. Va bene, diamo inizio ugualmente alla nostra performance. Brava. Su. Un bel respiro. Non essere tesa, non sentirai assolutamente nulla. Non ti faccio sentire niente. Eh, pronti? Via! Non perdiamo il ritmo, non perdiamo il ritmo. Pronto? No, non mi disturba affatto, mi dica. Ci risiamo, eh. Allora mi prenda del Club Ozil 200, uno la mattina, mezzo il pomeriggio e uno la sera. E mi faccia sapere? Scusi, ma sto facendo le schede. Senz'altro. Grazie. Ma se figurimi, chiami quanto vuole. Di nuovo. Soppa, non perdiamo il ritmo poste.